E sono qui in questo momento con Terry Delgaggio, come potete vedere occupa tutta la telecamera Comunque, eccoci qua oggi, siamo ritornati dopo l'ultima volta che non era andata proprio nei migliori dei modi, vuoi raccontarci la partita? Ma la partita è stata combattuta, diciamo più o meno alla pari, noi avevamo delle mancanze che potevano essere per squalifica e qualche infortunio L'importante è sempre portare a casa il risultato, i ragazzi hanno giocato bene, sono impegnati, anche loro sono divertiti, questo è l'importante per lo spirito del gioco Ah, un'altra cosa, oggi mi hai detto dal dettore Quinte che non volevi fare tripletta, ti sei solo abbassato a fare doppietta perché è giusto, ci vuoi raccontare la traversa finale? Niente, ho sentito Piontek per stasera, gli ho chiesto di farmi il terzo lui all'ultimo al 92esimo sui maledetti interisti Con questo ringrazio di cuore la persona che amo di più di questa squadra, Magnata, stasera ne prendete tre Grande Gaggio! E ti diamo qui questa intervista raga, ciao a tutti